buongiorno buongiorno a tutti buona domenica ben trovati nel canale benvenuti in questo nuovo video video dedicato alla partita di musetti a ciò che è successo in questa domenica notte a indiam wells della partita di sinner abbiamo parlato nel video precedente parleremo un po di ciò che è successo ma soprattutto analizzeremo la situazione di musetti non prima di avervi invitato a iscrivervi al canale a lasciare like al video ad attivare la campanella ad andare sul sito del fanta tennis www.fantatennis.net per capire come funziona il gioco per unirvi al gruppo telegram c'è il bottone per potervi unire al gruppo telegram e per partecipare già a partire da miami perché quest'anno c'è veramente quasi fino in fondo uso il quasi perché chiaramente chi entra negli ultimi tornei di chance ne ha poche ma fino almeno fino all'open degli stati uniti c'è chance per tutti per poter ambire ai premi in palio per me imparare trovate nei vari regolamenti che sono sul sito internet allora parliamo di musetti contro mannarinò e se dovessi trovare un titolo al se fossi un giornalista cosa che non sono ma dovessi trovare un titolo alla partita tra musetti e mannarinò parlerei cronaca di un disastro annunciato perché questa era veramente una partita in cui il buon musetti non aveva scampo contro mannarinò non aveva scampo per per troppi motivi primo fra tutti la preparazione che è stata fatta per arrivare a questo mille giocare tre tornei sulla terra può anche essere una scelta giusta se fai punti sui tornei sulla terra se ti presenti a se ti presenti in forma e nei 250 nel 500 di rio sulla terra riesce a fare i punti che probabilmente non farai a india wells cioè rinunci al mille per prenderti quei 700 800 punti fatti fra rio buenos aires e cordoba e questi tornei santiago questi tornei qua è evidente che se ti presenti in questi tornei su terra e di qua di tre tornei vinci una partita tra l'altro affrontando non è che perdi da giocatori top perché i giocatori top fanno la preparazione sul cemento quindi hai anche questo di svantaggio che non è che perdi dai dai migliori migliori giocano i tornei sul cemento e quindi perdi da giocatori di classifica inferiore sulla tua superficie preferita è evidente che quando fai il cambio di superficie non avendo fatto nemmeno un torneo sul cemento e trovi uno come mannari no che in queste superfici ci sguazza beh il risultato non poteva che essere questo io l'ho detto nei video detto che da musetti mi aspettavo poco ho detto che era favorito mannari no vi ho detto tutto e purtroppo ciò che vi ho detto anche fino a ieri sera si è verificato in maniera importante cioè non è andato di fuori una virgola ecco di ciò che era prevedibile di ciò che era previsto iniziare adesso a fare i processi sullo staff di musetti sul fatto che abbia sbagliato preparazione e sicuramente questo è successo è inutile nascondersi dietro un dito l'errore di preparazione l'errore anche di di modus in cui musetti è arrivato a giocare questi tornei è evidente è evidente che musetti ha bisogno di un preparatore e di un allenatore che gli facciano fare quel salto di qualità che ancora non ha fatto cioè musetti è capace di giocare due tre partite molto bene e poi ricadere nei soliti nei soliti errori non è non è bello fare i paralleli con gli altri però se guardate dove è arrivato musetti e sta ristagnando in quella posizione tra la top 20 18 e praticamente si sta accontentando perché tre mesi che non vince una partita quindi la situazione è stagnante e guardate il comportamento di sinner lo scorso anno che con un quarto di finale perso contro il city pass all'open d'australia perché quel quarto di finale fu perso male praticamente ci fu la rivoluzione dello staff ci fu un anno difficile ma sinner si sta i frutti si stanno vedendo sinner è al ridosso della top ten è un giocatore che ha appena battuto city pass si ha appena vinto contro contro city pass e quindi è riuscito a fare quello scalino cosa che musetti sembra non riuscire è chiaro c'è ancora tempo c'è ancora margine musetti è molto giovane ma io purtroppo lo vedo giocare sempre 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 allo stesso modo con un tennis che stilisticamente è molto bello da vedere e questa è una costante che dico da da quando musetti è entrato in top 60 musetti ha un tennis bellissimo da vedere un tennis che vale il prezzo del biglietto però un tennis che a volte è maledettamente inefficace soprattutto col dritto fa molto poco male e il dritto in questi ultimi tempi è il colpo che sta facendo la differenza negativo come migliorare beh certo non posso essere io a dire a musetti ciò che deve fare però secondo me non dico cambiare staff ma aggiungere qualcuno allo staff che gli possa consentire di fare un quel salto di qualità che gli permetterebbe di essere top 15 stabile ora io non dico che musetti però musetti su terra può veramente fare bene è un giocatore che ha talento è un giocatore che che gioca bene è un giocatore che ha un rovescio invidiabile però è un giocatore che è fragile caratterialmente è un giocatore che i momenti di difficoltà li subisce e non e non sembra avere reazione temo per tutti noi che la situazione come vi ho detto di berrettini che insomma io a miami se matteo passa due turni mi accontento ecco dico la stessa cosa per musetti se musetti a miami arriva agli ottavi è grasso che cola temo che basta che basti un buon giocatore da cevento per spengere il torneo di musetti anche in quel di miami poi ci sarà quella settimana di pseudo pausa che 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 il torneo di marocco di casablanca e poi si comincerà a quei mille su terra e lì bisogna che musetti si presenti si presenti in forma perché tra monte carlo madrid e roma musetti si gioca che c'è chance non solo di essere testa di serie a roma garros ma di esserlo in maniera importante perché un conto essere 32 un conto essere 25 un conto essere 12 13 perché su terra qualcosa deve fare e questo musetti non ha futuro nemmeno nella stagione su terra purtroppo quindi non dico che il miglioramento andrà visto a miami perché miami è troppo è troppo vicino in dieci giorni è quasi impossibile che ci sia uno switch mentale e ci sia un cambio di forma fisica tale da avere prestazioni troppo superiori a quella che ha fatto che tra l'altro nei primi game era andato avanti di un break poi il solito musetti che si mette a giochicchiare con l'avversario e la partita l'ha in carta da sola però ecco l'obiettivo se ci dobbiamo dare un obiettivo con berrettini arrivare all'erba in in condizione musetti deve farlo prima musetti deve arrivare in condizione non dico a monte carlo ma a roma si abbiamo un mese di tempo roma comincia più o meno il 12 13 di maggio quindi abbiamo due mesi di tempo per 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 entrare in condizione a roma bisogna bisogna dimostrare di essere in grado di poter fare punti anche su terra anche se a roma sarebbero già passati a monte carlo e madrid sarebbe già passati 2000 sarebbe già una situazione difficilmente rimediabile ma insomma da arrivare in forma a parigi per musetti sarebbe tanta 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 roba ripeto ho letto sui social di gente sta dando del praticamente dell'incompetente o dello staff di serie b allo staff di musetti quando porta un giocatore nei primi venti al mondo non puoi essere incompetente questo è palese perché non tutti ci riescono a portare i propri giocatori nei top 20 quindi tartarini ha indubbiamente dei meriti però probabilmente lo step tra essere 20 al mondo ed essere 10 è uno step a cui tartarini ancora non è arrivato e quindi magari un aiuto in più potrebbe fare comodo per quanto riguarda gli altri gli altri risultati vittoria tutto sommato abbastanza facile per per carlito sakkaraz che ha vinto che ha battuto 6363 e l'australiano kokkinakis poi urzac ha vinto 2 a 0 sempre con popirin rune si è si è liberato abbastanza facilmente di mcdonald's e questo è un punteggio questo 7 563 un punteggio che un po spaventa in ottica sinner perché insomma mcdonald's è sempre un brutto cliente di x por abbattuto pella fritz in rimonta abbattuto scelton un buon scelto specie nel primo set poi l'esperienza di fritz l'ha fatta l'ha fatta da padrona e poi insomma tabellone nella parte alta che non ha troppe sorprese sono saltati si è saltato evans è saltato grix por ma le teste di serie principali sono rimaste tutte bella sarà probabilmente la partita la partita che promette spettacolo nei sedicesimi del torneo e urzac pol e poi ci sarà appunto il nostro il nostro jannick sinner impegnato con il giustiziere di di musetti torneo che vede rimanere un solo italiano appunto sinner una una caporetto per sia per i nostri giocatori che per le nostre giocatrici speriamo che sinner possa arrivare il più là possibile ma insomma il primo mille della stagione crea una situazione abbastanza preoccupante per quanto riguarda i risultati perché oggettivamente di quanti ne avevamo portarne avanti soltanto uno al terzo turno è veramente un pochino un pochino poco è chiaro va avanti quello che ha più chance di andare in fondo avanti quello che probabilmente anche il tabellone migliore per arrivare in fondo però anche anche lì è un'incognita perché anche sinner anche ieri sinner ha avuto forse un po' troppe difficoltà come vi ho detto nel video non tanto difficoltà quanto ci ha messo un po' troppo a vincere contro contro gaschie che per carità buon giocatore ma insomma siamo quasi a poterlo chiamare ex e quindi pre ora prestazione abbastanza deludente dei nostri il favorito del torneo resta resta da di medvedev resta il russo io onestamente non ho visto la partita di alcaraz però insomma credo che il favorito del torneo in assenza di gioco vi ci arresti il russo noi possiamo con l'uscita di zizi pass possiamo intrufolarsi come sorpresa noi intendo e anni sinner potrebbe essere la sorpresa del torneo certamente i due più accreditati per andare in finale sono medvedev e se sta bene alcarazza perché alcarazza ripeto lo voglio vedere in partite un pochino più impegnative noi ci vediamo domani per commentare quello che succederà oggi e quindi io vi saluto vi auguro ancora una buona domenica grazie a tutti e buona domenica buona giornata iscrivetevi al canale lasciate like al video attivate la campanella andate sul sito del fanta tennis perché il gioco vi aspetta e i premi in palio vi aspettano grazie a tutti